Ho conosciuto Maurizio ovviamente per ragioni professionali e negli ultimi anni con molta più profondità perché quando sono diventato direttore di Rai 1 ho portato avanti il suo programma, si è fatta notte e quindi ci siamo visti nel suo studio. Ricordo la mancanza di alcun pregiudizio di fronte all'altro e la piena curiosità di fronte a ogni altro e quindi mi porto con me questa grandissima capacità di ascolto indifferenziata che è solo, credo, delle persone molto intelligenti.